Ammassa per il gusto di ammazzare. È un animale che finché circolo è molto pericoloso. Non credo che l'orso abbia rubato il formaggio. Questo orso piace solo il finetto. Scriva pure e penso qualche volta che qualche persona beva meno ombre e non vede l'orso. L'orso è imputato dal reato di predazioni continuative. C'è sempre una rivalità tra chi vuole l'orso e chi invece che coppa l'orso. Grazie per la visione! Grazie a tutti!